C'è ancora dei pormoni buoni, capito? Tu due pormoni fumati? No. Non fumo tanto io. Meno di gente che conosco io fumo. Quanto fumi, Gio? Quattro o cinque sigarette? Al giorno? Sì. No, tre. Quattro. Tre e quattro, ecco. Hai finta che io conosco... Che Pedro se ne fuma tipo un pacchetto. Quindi, al giorno. C'erano altri amici miei che fumavano due pacchetti, due pacchetti al giorno della scuola mia, della mia classe. Mi dissocio. E offrivano a tutti, eh? Non ho capito che è successo. Un momento. Sì, insomma mia mamma pula... Dessine, 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 dessine. Ok. Oi, ti vuoi una collaborazione. Ciao. Bella, bella, raga. Cola, sì, certo perché no. Già te l'ho detto ieri sera, anche se. Ma che cazzo mi è successo qua? Rocket League non risponde. Ok. Ok. ok ma perché non hai canciare quello che voglio io qua c'è un altro ma che storia ma che storia lo so lo dico sempre anch'io ti aspettiamo? ma si dai prima o poi rivelo visto che non mi favo entrare su rocket ti va una collaborazione e fai collaborazione così cresci si ma non con tutti ma proprio con tutti mi fai vedere il K video sponsor i piedi fagli vedere i piedi mi fai vedere i piedi guarda che mamma ha minacciato se parliamo forte dobbiamo fastidio ci stacca tutto mi stai parlando a me? si si io li chiudo dentro casa una chiave nella stanza la stanza è spaccata ti ricordi? ti abbiamo raccontato questo aneddoto? no non ho capito non ho capito Cristian Cristian ti abbiamo raccontato questo aneddoto no praticamente mia madre e io tutti noi tre stavamo in cucina a mangiare e io dovevo guardare i miei fratelli in piccolo siamo intondati io un attimo in cucina e il mio fratello piccolo giocando ha chiuso la porta però io non pensavo che l'avesse chiuso a chiave perché non pensavo che lo sapesse però quando è dentro la stanza è chiuso a chiave e il punto è che Giorgio si è spaventato pensando che si era fatto qualcosa e quindi ha detto ha provato a portare il mio fratello piccolo e il mio fratello piccolo ha avuto quegli attacchi panico non so perché però si è messo a piangere pure quindi Giorgio ha dovuto scontare la porta com'è che l'ha sfondata per favore voglio sapere tipo una una spallata una spallata no per favore voglio vedere tipo l'azione di Zidane le spallate che pallone tipo quando vai a prendere il pallone ecco proprio questo alla Ronaldinho mi inviti su Rocket in un party ah dicono se facciamo un party su Rocket mi stanno scrivendo non possiamo fare un party su Rocket perché party mi sa che youtube che tende per party party sul ps4 che è una community dove tu puoi invitare mille 8 persone e ci parli mi invitate no no mi invitate mi invitate si ti invito io ti invito io mi invitate no io sono pronti su queste cose mi invito devo cambiare la mia auto ma chi è un dalla più piccola al più grande è che pure io posso mettermi con l'auto ma non mi piace io c'ho proprio il camioncino con la legge la divertiva aspetta ti faccio vedere ti faccio vedere aspetta aspetta anche io ce l'ho anche io ce l'ho quel camioncino lì è questo qua aspetta intendi questo prima di tutto questo qua intendi quello che ho ora oppure un altro aspetta tu ho quel che c'è anche io ce l'ho aspetta che voglio ampliare tipo con un'altra macchina questa qua boom 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 I want you in my room down in my room ok mi sono fatta la macchina inizio su stavo facendo la macchina se la fai ancora devi ancora aspettare qualche seconda solo che ti regalo cose va bene va bene oppure io ti regalarti cose non so come si fa ma cos'è sta acqua qua sotto ma vado io vado io avanti no non rimango dietro scorsi rimani con dietro si è fortuna però tenta di tenta di prenderla ce l'ho bravo giù scusa di te ho finito riprenderla mi sa no si adesso non così però però l'ho presa vantiamoci che almeno non entra se entrava è un bordello aspetta c'è un portiere pure dell'osso bravo no ma che capino è esploso fam che la faccia il giorgio deve sempre rimanere al centro ci trovo io ti avanzerai nel centro no perché la metti indietro ah tu 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 sono in frille ah ah bravo bravo ok così quando devi fare così ti puoi buttarla indietro allora io te la passo, te la metto in centro e tu prova a prenderla adesso sto in centro cazzo presa vai di nuovo in centro a voi vabbè vado io ormai oh è vuoto portiere sono proprio il portiere ah ma non stiamo giocando con due no cosa è successo possiamo giocare pure quattro possiamo giocare tutti contro tutti cioè sei contro sei capito che senso hai capito che senso che ti stai buttando non si può lo vincere non si può lo vincere faccio un bello ciao 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 ritorno giorgio? mi faceva sterzo che cule che cule e vediamo il gol? non l'ho fatto io l'ho tirato avanti ah allora l'ho presa l'alto nel time is due ah vabbè vado io verso la palla e chi rimane di gioco? rimango io tu giorgio dagli una mano no vengo io dietro non ho più bosco vai dai giro ti ho detto sempre uno in centro e uno che fa che va sulla in giro per l'altra parte ma regano mi fa rinconi con le tibucche che c'è paura mi sa che è Dudu quello che sta andando in giro no no non ci viene non ci viene non ci viene non ci viene guarda l'ultimo guarda l'ultimo giorgio non devi seguirli proprio lui mentre va a Yanke tu devi stare al centro e aspettare la palla e fare gol dai vediamo se ce la faccio no bello come ce l'avete fatto bello come ce l'avete fatto bello è un po' volato eh raga l'ha presa ha fatto gol infatti uno solo sulla palla non tutti due insieme poi l'altro deve aspettare l'impallo e deve andare a prenderlo dai dai vai vai fare poi ecco mo torni dietro e devi fare insieme a George vai ma no mi hai detto che tu tornavi indietro ecco capito no boost ah è serio uno in centro e uno che aiuta agli altri eiii gravi non ho capito che è successo però uno in centro e uno che aiuta agli altri guarda 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 il 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 la palla è andata se mi sono aiutati sono indietro dal centro la palla sono indietro io l'ho fatto no vai rimando dietro ok no no rimango e егоf ının ce ne hanno segnato un trascinale vai vado avanti io vai tu avanti per te non importa la fate? la fai? no ci avete avuto fortuna ok Joe rimani al centro che questa palla è per te eh va bene mi ha preso al centro Joe questa palla è per te devi rimanere al centro ma se tu stai implicato verso finistato verso il mondo io vai gg 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 vado avanti boom ok No, vai, 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 to the... Halt. Ah, Meri, tu. Cos'è che l'ho lanciato via? Vai, lanciato via. Bello. Ma con le parti, il pedeverka, automaticamente, c'è un problema. È un problema di... Trovo, è come di... Diventire automaticamente. Non è un problema. Eh, mate, sarebbe domani, perché non mi risponde quello adesso? Sì, non mi risponde. Sto parlando di un'altra questione. Ho fatto due assi, due gol, un assi. Tante parate. Dovevamo tornare alla lobby? Non c'è problema. Vai davanti. Vai a tut, dudu, vai a tut, dudu. Stoji dietro, stoji dietro. E' un'altra attenzione inizia a me Spaggia? Eh, l'ho pigata male io Me hanno fatto loro No, mi dico L'ho parata io Bravo Questa andrà in mezzo Quindi dove li cercheranno qui Tira la via Non sta in porta Niente sono volato via Qualcuno ci importa? Io Ora sono arrivato O io ho un porto, ok? O io ho un porto, poi andrò Eh, come cazzo faccio prenderla? Colpa mia Non c'è questo Però non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Ma c'è E' un po' difficile Bravo Stai capendo Ma no L'ho fatto male io Tranquillo, tranquillo Sono in porta Bello, bello No Joe, un'altra volta magari Non c'è Vai, vai Bravo Non c'è se l'ho parato Dove venire a darti una mano Vai tu, Dulus In centro qualcuno sempre Ti portate Mi l'ho lanciato Tranquillo Mi l'ho lanciato 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 No, no No, no Tranquillo Tranquillo No, cazzo Mi è arrivato già Io vado indietro Ho messo in mezzo per sbaglio Attenti Pesa Pesa Così, bravo Pesa ancora di più Pesa ancora di più Bravo, presa Me ti l'ho a mezzo Giorgio in mezzo Giorgio in mezzo Giorgio in mezzo Eh, però devi capire A chi sta distanza Vado indietro di nuovo io Sono io indietro Oh Tu, indietro E tu, su questo avanti E niente Prendo il boss E arrivo, veloce Sfondo qualcuno Vediamo No Niente Niente Non c'è non sta sta palla dai su ce la possiamo fare proprio devi essere un po' più attivo come prima aspetta ora non dà a far culo la chat mentre stai giocando dopo quando affinghi il gioco dico quando c'è andare prima ma? tranquillo rimani difesa vai tu in difesa o chi vai in difesa? vabbè stai davanti no sto io dietro li vado io prima devi dire però eh non sapevo nemmeno io tutto calcolato non ci credo ok 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 bella bella sto andando avanti niente non ci credo ti dico io quando andare ti dico io quando andare ti dico io non è adesso il momento ci sta prendendo il gioco uno che è andato che sta a palermo ok ok cria adesso va bene il gioco va bene così va Christian tra poco ti devi tenere pronto ma non adesso non c'è va bene va bene bravo va bene va bene va bene un incerto Oh, guarda, guarda! Tolto! Sì, no, guarda! Sì, no, guarda! Sì, no, guarda! Che è successo, ragazzi? Avevo visto un po' più... ...spotenti! Ragazzi... Sì, no, tromba, ragazzi! Io non vedevo fare nulla tranne che parare! Sì, no, guarda! Sì, no, guarda! Sì, no, guarda! Mi dissocio, non vado avanti! Sì, no, guarda! Visto! Vai, Giò! bella mamma bella oh ma che c'è vabbè bravo bravo hai capito che senso che in timo No, non è vero. Ok, guarda attenti Vai, vai qui ancora Bravo Me l'ho lanciato Avanti Non so se ci arriva Tranquillo Niente Bravo Pesa No, l'ho tirato indietro, ho sbagliato Sbagliatissimo Bravo, bravo, bravo L'ho lanciato dietro Ho sbagliato, devo andare avanti Cioè volevo farlo avanti, ho fatto indietro Rimani di casa Io, io Avanti, è davanti Ok, Giorgio vai all'angolo Intenta di forzarmi, rimango al centro Non sono più in difesa comunque No, rimetto di nuovo Vai No, mi ha schillato Mi ha schillato Mi ha schillato Ho fatto in su Non so come l'ha fatto Potrei pure fare due E la resiste Non so La gioco bella adesso Fin mani di casa Io, io, io La palla verrà al centro Quindi Aspettate Vai No, palo Non importa Guarda Guarda Ora Prendi un centro Presi di nuovo Ritorno in difesa Sto bloccando un'auto L'ho bloccato Ok, qualcuno in difesa Sono io No, qualcuno è in Tappi No Indietro Tanto ci sono io indietro Se la bollare c'è indietro Vai La puoi fare? Sì, sì Fatto Rilanciato altissimo Ci siete voi Eh, non mi aspettavo Poi vado io Mi torna subito in porta Mi torna subito in porta No, niente, niente, niente Ho fatto un'auto No, da deve vendere Niente No, perché? Questo è gol Giorgio che la mette nelle parti più sbagliate Ma se due e poi io Ma tu sei sbagliato tu Guarda tutto Che ti sei fatto Tu l'hai messa a me Vai tutti Sbagliata Ma che fa finito Tu l'hai messa a me Devi toccarla Sì, sì Qui è molto sbagliato Saluti Sbagliati Entrata Sono andato avanti Senza dire Vai, sono in mezzo Sono in mezzo, Dino Non c'è la parte Non c'è la parte Aspetta che i costi no Anche ce la fanno Ok Fermo Stai in mezzo Eh, però no C'è lì Sono andato storta Vai, così Adesso Troppo alta Fa niente Fa niente No, ma che è in porta Da oro No, ma Hai di tu Ho preso un infarto Ok Hai di capire che io sarò sempre differente da quei là Come gli altri colori Se tu vieni colore grigio sono io Adesso arrivo, regà Faccio più più scuola con qualcosa Con la parte di ce che ti ho portato C'è una partita dentro Ma questo è un bronzo, d'accordo? Eh, lo so Io sono come si dice? come si dice? come si dice? Platino ah minchia sei in qua si due volte più sopra di te io sono all'inizio quindi cosa sono? cosa secondo te ho capito anche al mio cioè no è il primo voi dovete divertirvi anche oggi è iniziato a mezzanotte giocare come volete perché mai la colpa di Christian sembra arancione noi lanciato vai scendo davanti davanti e vai sto in centro io te l'hanno autocrossato no ma Gio che cazzo fai? perché lei non importa eh io proprio io pensavo che avrei detto è la mia porta bello come l'hai messo il gioco ma se che tocco no no per questo ho detto no vieni come l'hai messo faccio il mezzo mi chiamarco tocco no non ci credo duro come te la parava io ho fatto tre colpi in meno di due minuti no tocco tocco facciamo a Giorgio vediamo se Christian se la fa la presa non l'ho lanciata tanti Giorgio ti prego Giorgio l'ha presa bellissimo vai Giorgio no Giorgio no no così no così no no il portiere ha sbagliato sono davanti oh oh c'è 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 dai qua ti devo fare la skill ok perfetto fai l'auto bravo bravo vieni da male no penso io no non ci ho pensato più già sapevo che la mancavo ecco no questa ritorna da noi ok devi tirarla oh tu gioca non tirarai Giorgio Giorgio sarà piago è triggerato no no non mi serve hai vedi questo è dove che cazzo non prende la palla aperta di due volte bello bello Marco Tocco è arrivato oh mi ho lanciato oh ecco ah chi è che è stato esplodere l'ho fatto esplodere io Giorgio Giorgio provati vai no niente tranquillo ci provo no ci provo hai detto bene almeno vai vai dritto 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 oh ho già marco dottor c'è la cagata è molto oh mio dio porto vuoto quanto avrei voluto nessuno ti sta dicendo che non puoi uscire no lo so però non dobbiamo 50 50 secondi niente ritorno non importa bella questa partita combattuta non ho fatto uscire però ci sono no ma c***o ok vi racconto 30 secondi attento lanciato in avanti dai Giorgio è poi difficile credo che sei stato attenti dai che prego io boh il tempio è più no ok tempi supplementari chi sta in avanti vado io avanti vai io vado indietro io vado indietro la palla non è andata vai e vado indietro io il bollo che se sempre sta avanti ricordatele bravo qualcuno qualcuno in mezzo no non ci credo ho sbagliato ho premuto fa niente fa niente fa niente fa niente vai c'è lo so la palla ripresa è bloccato cioè non ci sono no ci sono fai fai siamo presa braio andate avanti du du fk voglio spararmi in bocca proprio all'istante vai non mi è neanche dato l'assist mamma mia è stato spettato lì però ho fatto una bella giocata almeno ho placciato una roba assurda bella partita io ho placciato il mio giorgio è stato scelta panchini vediamo quanti punti ho fatto ma è infatti po' ah no sono il secondo pure sono bronzo 3 cosa vuol dire che sei bronzo 3 tipo l'ultimo no o divisione 2 non capisco c'è bronzo cosa vuol dire che sei bronzo 3 basta vabbè almeno sono qualcosa prima non ero niente meglio essere qualcosa che niente no ma due non è stato porto si vede non è forte che è qua no vado io uso il posto vai ci devi andare adesso vai tira tira no perché da quella parte non è bloccata lui non lo trattavo giorgio 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 esatto no 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 bravo non ho posto vero e sono io sono io la sito e in mezzo non ce ne sono in mezzo bravo ci stavo andando io perché non sei da tutti in mezzo bravo bravo presa è in fondo non so dove sia ancora qua ce l'ho detto vai in mezzo vai in mezzo vai in mezzo no ormai colpa mia non importa vai in mezzo sono in mezzo non sono in mezzo non importa io sono vicino a te però se fanno un lancio sbagliato vado io tipo ora sono in mezzo vado in mezzo vai no non ce lo faccio vai è tua ce lo fai no no la fai ce la fai non ce la fai si ce la faccio vai tirata vai via vai vai io oh no 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 torni 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 torno giordio vai al centro Un po' avanti, lo pino Un cattiverio E' niente Bebe Tranquillo, lo prendo io Perchè? E' niente No sta l'alituron Bebe! Dove devo andare? Al centro forse Difficile Guarda Le ruote perchè Chi ha messo per avanti? Vado avanti Chi ha messo? Chi ha piccato per abbandonare? No Vi ho già abbandonato Vabbè, intanto avevamo perso lo stesso Giochiamo Non ho boss ecco perchè non andavo avanti Non c'entra niente Devi andare di cliccare X